Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video Oggi siamo qui con una mod review La mod che andremo a trattare oggi è la Moses Mod Niente poco di meno che la mod di Mosè Più che altro, più che essere una mod tra virgolette religiosa È una mod veramente molto interessante Adesso andremo a vedere piano piano che cosa aggiunge Le feature aggiunte contate che sono poche, ossia soltanto due Ve le spoilerò adesso veloce ma le vedremo adesso con calma come possono essere appunto trattate diciamo Che sono appunto poter separare le acque, separare l'acqua e il mare E anche un'altra feature inventata, non so che cazzo si è fumato il creatore Che permette appunto di separare la lava Per mettere di separare appunto un fiume di lava Sembrano delle feature, delle cazzate ma Adesso andremo a vedere come vengono trattate appunto in questa mod Visto che comunque Se si lascia da parte il fatto che sia una mod tra virgolette religiosa Può tornare comunque utile come mod per divertirsi Così non sembra una cazzata ma in realtà Adesso andremo a vedere la sua autorità Allora innanzitutto Che cosa viene aggiunto? Vengono aggiunte due nuove staffe La Staff of Moses e la Burnt Staff of Moses Che sarebbe la staffa di Mosè e la staffa bruciata di Mosè Allora in realtà andremo a vedere come si reperiscono appunto queste staffe La prima di queste ossia la staffa di Mosè normale Basterà prendere un pezzo di foglie E bruciarlo Bruciarlo con un accendino E buttare sopra uno stick Così facendo otterremo la staffa Oh si è spento Giustamente si dovete essere veloci però Così facendo otterremo la staffa di Mosè Adesso voglio farvi notare anche gli strani effetti Che si sentono Quando i suoni che si sentono Quando appunto teniamo una staffa di Mosè Sentite qua Qualcosa di veramente molto angosciante Moses Cioè veramente cose assurde Comunque Trilasciando le cazzate Come ho detto appunto Date fuoco Buttate uno stick sopra Moses Ok Moses E così appunto otteniamo la prima staffa di Mosè Come si ottiene invece la staffa La Burnt Staff of Moses Dovete semplicemente Ricorrere a della lava Vi basterà una fonte di lava Vi consiglio una fonte di lava Magari uno per uno Perché se lo cercate di Appunto fare questa cosa in un Lago di lava Rischiate di perdere la staffa di Mosè Perché appunto Per ottenere la Burnt Staff of Moses Dovete Buttare una staffa di Mosè Nella lava E prenderla velocemente Subito Questo punto però Non si può fare Se vi trovate In un lago di lava Perché appunto La perdete direttamente Quindi Se lo fate in un buco Uno per uno Non avete problemi Quindi detto questo Direi che possiamo buttare L'extra delle staffe E posso mostrarvi Che cosa fa appunto La prima staffa Ossera la staffa normale di Mosè Quello che fa appunto Quando premiamo tasto destro Permette di aprire Di separare le acque E aprire un percorso Quindi Con questi effetti sonori Tutti quanti Boh Non è che idea Comunque Vi permette di aprire Un percorso Che può tornare comunque utile Potete poi Successivamente Premere di nuovo tasto destro Su una parte Per terra Insomma Nelle acque E chiudere appunto Il percorso aperto Può sembrare una cazzata Ma oltre a raggiungere Un punto A E un punto B Molto semplice Che in questo caso Non serviva nemmeno Si possono fare veri e propri Tragitti Sott'acqua E adesso vi faccio vedere Un esempio Lo posso benissimo fare Così Me ne vado in giro Povero squiddy Che è rimasto fuori Dall'acqua Posso andare fuori E continuare qui Dritto Guardate qua c'è addirittura Un qualcos'altro Di Qualche caverna sotterranea E posso continuare Premendo tasto destro Ad aumentare E a aprire le acque E il percorso rimane Appunto segnato Badate bene Comunque Che Oh che figata Badate bene Comunque Che Ovviamente Possiamo fare anche Oh shit In questo caso È successo Il bordello Più assurdo Perché Ho premuto tasto destro Su un blocco Comunque Dicevo Potete benissimo Aprire Dei Percorsi Che appunto Vi possono portare Dove volete Quindi Potete anche Girare Insomma Potete muovervi Nell'acqua Come preferite Quindi Non c'è Molto altro A raggiungere Visto che La feature è questa E divertitevi A giocare Con la staffa Di Mosè Non so che dirvi E proseguiamo Adesso con l'altra staff Ossia la Bard Staff Of Moses Andiamo a vedere Adesso ci spostiamo Nel nether E vediamo Cosa fa appunto La Bard Staff Of Moses Eccoci giunti Qui nel nether Adesso andrò A mostrarvi Come funziona Appunto La Bard Staff Of Moses Funziona Il funzionamento È analogo A quello Della staffa Di Mosè Normale Cambia soltanto Che appunto Potete separare Appunto La lava È una cosa utile Perché potete Muovervi velocemente Da un punto A A un punto B Visto che Specialmente nel nether Molte volte Ci si trovano In situazioni come questa Cioè Bisogna fare un giro Stralungo Oppure Fare un ponte Sulla lava Per passare Da un punto A A un punto B Quindi Quella per il nether Può tornarvi Ancora più utile Badate bene Però Se per qualsiasi motivo Sbagliate A premere Tassù destro Morite Nella lava Quindi Usate la vostra Rischio e pericolo Perché potete Benissimo essere stuprati In due secondi Da qualsiasi cosa Adesso andiamo Adesso andiamo a aprire Il nostro Nostro bellissimo Ehm Bellissimo passaggio Adesso andiamo Dall'altra parte Del appunto Del nether Potete vedere Che è veramente Una cosa utile Perché io Sono passato In 30 secondi Dal punto A Al punto B Senza che Appunto Mi sia accaduto niente Badate bene Però come ho detto Prima Che se per caso Aspetta Ho provato Tassù Sbaglio Muoio Annegato Nella lava Quindi Fate attenzione Quando la utilizzate Perché Il vantaggio Che avete Appunto Inizialmente Potrebbe trasformarsi In due secondi In uno svantaggio Se non state attenti Quindi Questa era La mod Di Di Mosè E Non aggiunge altro Questo è tutto Quindi direi che Posso benissimo Chiudere qui Ho detto anche abbastanza Spero di non essere stato Logorroico E Ci vediamo Alla prossima Mod review Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima